Bentornati su MyFootballJergy. Vediamo questa splendida maglia del Palmeiras per la prossima stagione, la 2024, la maglia di casa in edizione fun, che vi ricordo, è quella un po' più comoda e confortevole pensata per i tifosi. Grazie a tutti. La maglia è veramente molto bella, tendenzialmente è verde, ovviamente tinta unita, però è un tono di verde veramente veramente bello, diverso da quello dell'anno scorso, lo preferisco molto. Mi piace anche la bordatura in bianco e le rifiniture in oro. Il costo lo vedete come al solito è molto basso, tra l'altro per una maglia che ha un'ottima qualità e ottimi tempi di spedizione. Se volete sapervi di più trovate tutti i riferimenti in descrizione, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e quale altre maglie vorrete vedere. Per oggi è tutto, alla prossima!